Il professor Tommaso Aprile, veramente dottore grazie di essere qui, io vorrei vedere il suo libro meraviglioso che è un libro 184 a.C., un anno di scuola all'Eternum tra Scipione e Baccanali di Atella. Veramente è un grande testo che presenteremo presto a Roma e quindi non vedo l'ora di poterlo presentare e avere l'opportunità di portare anche dei relatori molto importanti. Quindi qui oggi al Parlamento internazionale della legalità e in una sala prestigiosissima, quella di Montecitorio. Prego. Quindi anche nel mio libro ho sottolineato il valore della cultura che rappresentano la base e i gradini per parlare poi di pace e di legalità. E' nella storia che viene la legalità perché attualmente gli atteggiamenti sono poco legali, la moda. Credo che una conoscenza, un ritorno nella storia, nella nostra cultura possa far crescere, vivere il nostro paese nella cultura della vita. Dottor Aprile io la ringrazio, a presto rivederci e grazie per essere qui. Grazie.